Musica Vi presentiamo l'Acer Cloud Mobile, il nuovo terminale della casa asiatica con Android Ice Cream Sandwich è un design molto particolare, come potete vedere lo smartphone ha una struttura molto solida potete vedere la cover posteriore con elementi leggermente in rilievo per una presa migliore un display da 4,3 pollici HD con tecnologia IPS in questo momento possiamo farvi vedere solamente la transizione tra le home abbiamo una CPU dual core da 1,5 GHz e un 1 GB di RAM incorporato il sensore della fotocamera è da 8 megapixel e con incluso flash LED abbiamo anche un audio in Dolby Mobile presente in questa cassa inferiore inoltre nella dorsale inferiore abbiamo la feritoria per il microfono in quella sinistra abbiamo la micro USB nella superiore abbiamo il tasto di blocco sblocco del telefono e il jack da 3,5 sulla parte destra invece troviamo, trovano spazio i due tasti per il bilanciere del volume grazie millió Grazie a tutti.